Trauma cranico contusivo nella parte anteriore della testa. E questa la prima risultanza emersa dall'autopsia effettuata nella giornata di ieri dall'anatomo patologo Ildo Polidoro presso l'ospedale di Pescarra sul corpo di Cesidio Cocco, il 74enne, imprenditore edile in pensione, morto sabato scorso nella sua casa incontra da San Giuseppe a Brittoli durante la colluttazione avvenuta al culmine di un litigio familiare. L'ite iniziata con la moglie Cleonice, ora ricoverata presso l'ospedale Santo Spirito di Pescara dopo essere stata colpita ripetutamente e proseguita poi con il figlio Massimo intervenuto nell'abitazione dei genitori per difendere la madre. Dunque dai primi riscontri non sembra esserci stato accanimento sul corpo del pensionato vista la totale assenza di lesioni interne. Per questo appare essere confermata la versione del 47enne, il quale ha raccontato sin da subito agli inquirenti di aver usato una sedia per colpire il padre. Adesso Massimo Cocco, in stato di libertà, è accusato di omicidio aggravato dal grado di parentela, in attesa della decisione del PM Papalia, che potrebbe valutare la causa del gesto come legittima difesa per sé e per la madre. Intanto l'anatomo patologo, provvedendo ai consueti rilievi istologici, si è riservato ulteriori 60 giorni per altri risultati.